Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo video, sarà veramente veramente molto veloce, vi gruberò al massimo un minuto, poi saranno sicuramente due, tre, quattro, sicuramente sarà lunghissimo questo video. Comunque, cerco di essere piuttosto veloce, voglio solamente ricordarvi che domani sarò a Milano, diciamo che nel corso di questa settimana avevo già messo qualche post su Facebook indicandovi che sarei stato appunto a Milano per il videogames party sostanzialmente, però ho detto vabbè facciamo anche un video anche se è un po' l'ultimo giorno per avvisarvi che appunto io domani mi troverò a Milano, ecco mi dispiace quest'anno non ho avuto l'occasione di essere al Games Week, però vabbè magari con questa occasione quindi riuscirò a essere lì a Milano per il videogames party, che cosa significa tutto ciò? Ecco io domani, domenica sarò dalle ore 14 fino alle ore 18 circa presso il videogames party che si tiene in Viale Montenero 78 a Milano, hanno praticamente una location di 600 metri quadrati dove è possibile giocare a diversi videogiochi che sono appena usciti, poi inoltre per tutta la settimana, tutti i giorni ci sono tornei a cui poter giocare di vari videogiochi, da FIFA, giochi Nintendo e comunque un po' un po' di tutto, ecco e domani ci sarò io diciamo come tra virgolette special guest, special guest, sono io sì, e quindi mi raccomando, volevo solamente dirvi questo, quindi venite a trovarmi domani se foste nei paraggi di Milano o abitaste appunto lì, venite in Viale Montenero 78, dopo le ore 14 mi potete trovare e probabilmente giocheremo a qualcosa insieme oppure semplicemente si scambiano delle parole, si chiacchiera un po', si gioca, si fanno delle foto, facciamo quello che volete lo facciamo, quindi nulla, un veloce video solamente per dirvi che quindi ci becchiamo domani, mi raccomando chi avesse l'occasione, venga a trovarmi, perfetto, ciao a tutti! E sì ragazzi, l'ho messo anche sul secondo canale, un po' dopo rispetto al primo canale, praticamente lo stesso video l'ho copiato, ho aggiunto solo sto pezzo dove dico le stesse assolutamente le stesse cose, però così magari se qualcuno si era perso sul canale questo video, adesso lo vede anche sul secondo, cosa è diabolica, va bene? Quindi mi raccomando, domani, domenica, Viale Montenero 78 al Videogames Party, venite a trovarmi, ciao!